A merdu, che mangiamo stasera? Stasera famo questi E che so? So cardi Ma che cardi? Quei so freddi e so pure spilosi Gli elevamo le spine e anche la parte quella legnosa Se ci avesse avuto un per la patata era meglio Poi li tagliamo a pezzi di 10 cm di circa E li mettiamo a mollo, se no s'anneriscono E per questo nell'acqua ci mettiamo il limone Li mettiamo a lessare in acqua e sale Sto stronzo, guarda in macchina C'ha le mani amare Quando si infilano con la forchetta so cotti Ma dici che hai la piattaforma con sto merdu C'è le rai check Ci mettiamo un pezzettino di burro E il pecorino, questa è la piattaforma a prova E poi li sistemiamo nell'air fry Parla come magni E ci mettiamo anche il pepe E li mettiamo a gratinare E guarda che spettacolo tutto gratinoso E poi lo mangiamo Vuoi? Tome agnite merdu Fine lavorazione